Uè non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi volevo condividere con voi questo momento che dici che cavolo stai dicendo XIUDER? Sì ragazzi perché dovrei entrare in game ed avere la skin glow, la skin Da Vinci per noi in Italia e devo ringraziare ovviamente il sito fortnitestore.io lo stesso sito che mi ha permesso di essere l'ultima volta il primo in Europa ad avere la skin Wonder lo stesso che può vendere tutte le skin rare a prezzi super super e soprattutto legit quindi non vorrei indugiare ulteriormente clicchiamo su battaglia reale e vediamo se ce l'ho o se è un mega fail e mi hanno trollazzato e invece c'è ragazzi qua lì e invece c'è e invece c'è ragazzi davanti così skin glow fortnitestore.io andiamo a vedere nell'armadietto ragazzi andiamo a vedere nell'armadietto sgaraval bagliore non si chiama neanche Da Vinci si chiama bagliore vediamo le informazioni della skin eccola qua preparati a incontrare il tuo destino fa parte del set bagliore non ricordo se con questa skin dovrebbe esserci anche un balletto dovrebbe esserci porca miseria non è male il problema è che io non ho assolutamente idea di come si possa chiamare il balletto qualora ci sia quindi non ne ho assolutamente idea c'è da dire che però ragazzi è veramente tanta tanta roba quindi mi raccomando fortnitestore.io sembra quello della vecchia fattoria se volete prendere anche voi la skin bagliore in anteprima è super legit io vi ringrazio per aver guardato questo video noi siamo in live su twitch ciao ciao